Sabrina Ferilli e Maria De Filippi hanno affrontato una prova davvero difficile e le due donne sono entrate nella casa dell'orrore. L'attrice ha iniziato ad urlare a sguarciagola e spaventata ha piantato le unghie della sua mano su Maria De Filippi che malgrado tutto è scoppiata a ridere. Un momento bizzarro che ha incuriosito non poco i telespettatori di Canale 5. Hanno affrontato la dura prova anche Belè Rodriguez, Rudy Zerbi, Teoman Muccari e Gerry Scotti. Non appena il vagone che la trasportava in coppia con Maria De Filippi ha raggiunto il treguardo, Sabrina ha tirato un grosso sospiro di sollievo. Per il momento è tutto gentili ascoltatori, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e se vi va iscrivetevi in massa al nostro canale YouTube. Ciao ciao dalle News!